Finale di Fiorentina-Regina 2-0, gol di Pazzini e di Musso nel finale, un'analisi veloce della partita. Sì, partita che la Fiorentina ha sempre controllato, l'ha chiusa forse un po' in ritardo rispetto a quello che noi pubblico ci aspettavamo, si è avuto diverse occasioni e la partita poteva essere chiusa prima. Comunque direi una buona Fiorentina, Fiorentina che ha mantenuto forse il ritmo della partita basso, ha accelerato all'inizio di secondo tempo, ha creando diverse occasioni, non ha raddoppiato, è arrivata appunto solo nel finale, è una bella azione direi. Fiorentina era partita con Papa Vaigo sulla destra e che poi Prandelli ha sostituito di sesso un tempo con Jorgensen. Sì, Papa Vaigo francamente oggi non ha fatto secondo me una buona partita, un Jorgensen secondo me molto incisivo e forse l'esperienza in cui il caso ha puntato e Prandelli ha preferito forse mettere Jorgensen e tirare fuori Papa Vaigo. Gran gol di Pazzini, proprio le classiche azioni che lui preferisce, rimessa in grossa dal fondo, Fesolo, lui in anticipo difensore non a scanto. Bene, allora ci salutiamo, salutiamo i nostri amici di Tico Siglora e speriamo per giovedì che il ventino ha cibi. Speriamo per giovedì, buon bel lupo e... Speriamo per giovedì, buon 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 lupo e... Grazie!